Dottor Santro Bartolomeo, direttore sanitario del centro Buon Lavori Piccoli di Penitro, una delle realtà più affermate per quanto riguarda la riabilitazione destinata all'età evolutiva. Con la ripresa dell'anno scolastico è ripresa anche la vostra attività riabilitativa, che per certi versi anche d'estate non si è mai fermata. Una struttura la vostra che è baricentrica su un territorio abbastanza vasto, che si è freggiata di recente anche dalla Convenzione con la Regione Lazio. Le chiedo subito l'inizio come è stato. Devo dire che gli inizi non sono mai semplici, tanto più che stiamo parlando di una struttura che è nata sostanzialmente totalmente ex novo. Però devo dire che siamo stati molto aiutati anche dall'esplosione di un bisogno. Le famiglie ci hanno molto sostenuto anche nella fase in cui il centro ha funzionato come centro privato. Insieme a noi ci hanno creduto centinaia e centinaia di genitori e adesso grazie a Dio con la Convenzione noi abbiamo stabilizzato anche il rapporto con l'utenza ed in particolare noi possiamo offrire le nostre prestazioni in modo gratuito, che significa che chiunque può accedere a questo centro, ovviamente nel rispetto della lista d'attesa, ma senza costi a carico dalle famiglie. Deve pensare che noi in questo momento abbiamo in carico oltre 150 in cura, 150 bambini e abbiamo la lista d'attesa quasi di 80 bambini. È ovvio che anche sulla lista d'attesa noi facciamo alcune scelte, nel senso diamo priorità assoluta ai bambini molto piccoli, per intenderci quelli tra 0 e 3 anni, perché con quelli più degli altri hanno necessità di essere curati e riabilitati il prima possibile, poi tutta la fascia d'età prescolare e poi a salire tutte le altre fasce d'età. In ogni caso noi avremmo bisogno di poter allargare le nostre attività, perché questo è un campo in cui io credo che non ci debba essere neanche una persona di lista d'attesa, perché si tratta di bambini. Non è pensabile che un bambino con un disagio neuropsicologico, un disagio psicopatologico, si dica che deve aspettare anche una sola settimana. Quindi bisogna arrivare ad una estensione delle liste d'attesa proprio per favorire la rapidità e la provocità dell'interno. Naturalmente quello che lei dice è giusto, è stato santo e legittimo, anche se poi c'è bisogno, necessita questa richiesta che lei fa di uno sforzo istituzionale da parte dell'Asra, di Latina e da parte della Regione Lazio. Stavo parlando di bambini che in questo momento sono vostri ospiti e bambini che vogliono attraverso le loro famiglie diventarlo. 151 bambini in questo momento che sono in cura da voi e ben nel 74, ve lo diceva poc' anzi, un'ottantina, che vorrebbero essere assistiti da buoni lavori piccoli. Su questi numeri, le vostre considerazioni, naturalmente sono numeri importanti che non vi aspettavate, anche in considerazione del fatto che voi siete pubblici di recente, voi siete stato in centro privato, tu auguro, fino a qualche tempo fa. Ma guarda, io questi numeri non solo me ne aspettavo, ma li conosco anche. Io sono stato fino a qualche anno fa il dirigente del servizio pubblico in provincia di Latina, di neopsegna infantile, quindi io le situazioni epidemiologiche le conosco perfettamente. Qui diciamo l'esplosione legata al fatto che prima che noi organizzassimo il centro non c'era nessun'altra struttura in grado di fare il lavoro che facciamo noi, tranne quella della valla in Gaeta che però non si occupa esclusivamente di bambini, ma si occupa di bambini, di adulti, di varie facilità. Noi siamo l'unico centro che ha scelto di occuparsi solo di età evolutiva e siamo rimasti molto fedeli a questa, diciamo, nostra decisione perché riteniamo che sia opportuno che questo, oltre che essere un luogo di cura e di riabilitazione, è anche un luogo che accoglie. E noi vediamo che le famiglie si sentono molto a loro agio in un ambiente del genere perché si confrontano con famiglie che hanno i loro stessi problemi. La vostra è stata una scelta vincente anche per quanto riguarda l'aspetto logistico. Avete trovato una vecchia struttura che l'avete anche riqualificata nella zona industriale di Minturno, anche se poi è confinante con quella di Formia e con quella di Spigno. Una zona baricentrica anche rispetto, dottor Bartolomeo, alle realtà della bassa provincia di Frosinone, la zona dei Cassinate e la zona dei Santi. Questa è un'esperienza che nasce, come sempre, nascono le cose dal fatto che due persone sottoscritte a Brigitte Sentesi, che peraltro avevano già avuto tra di loro delle attività in comune. Insomma, Luigi è stato, quando io svolgevo la carica di Sindaco, che è stato il capo della mia segreteria, quindi una persona che io conosco bene, di cui aveva massima fiducia, aveva questa struttura carica industriale che non svolgeva più i compiti per i quali era stata creata. Io le ho proposto subito di operare una riconversione. Questa riconversione è stata fatta nel più breve tempo possibile, la struttura era già in ottime condizioni. I nostri interventi sono stati più interventi legati a trasformarla da una, come dire, funzione che prima doveva svolgere ad un'altra, completamente diversa. Abbiamo dovuto poi costituire una società, trovare anche degli investitori, perché noi non avevamo assolutamente la forza economica di gestire un'esperienza di questo genere. Insomma, si è composto un quadro, che è un quadro anche di tipo economico, che però ha messo al centro il servizio. Questa non è una struttura nata, perché chissà quali utili debba fare, questa è una struttura nata esclusivamente per dare un servizio. E, fatto non secondario, che io vorrei sottolineare, è che questa struttura dà lavoro a circa 25 persone, tutte laureate, tutte giovani, forse in questo momento addirittura siamo arrivati a 30, negli ultimi dati. Bene, queste 30 persone hanno un lavoro stabile, cosa che voi sapete meglio di me, se oggi a Foglio venisse un imprenditore e dicesse che crea un'azienda con 30 posti di lavoro, rifarebbero il tappeto verde fino alla conclusione dell'affare. Noi siamo riusciti a farlo senza chiedere aiuto a nessuno e dando un servizio importante alla comunità. Dottor Portomeo, questa struttura ha colmato un gap anche per quanto riguarda l'offerta sociale, assistenziale e diagnostiche per quanto riguarda il comune di Vintorno, sul cui territorio mancava un centro di questo tipo. Sì, ma questa struttura, ecco lei mi dà lo spunto anche per ricordare, questa struttura ha potuto bruciare le tappe perché il comune di Vintorno, che è il comune competente per territorio, è stato di una velocità stratosferica nell'aiutarci con tutte le autorizzazioni e i permessi. Devo dire che, analoga sollicitudine, è stata da parte del gruppo industriale che ha dato anche a chesso una mano importante, ma io credo, ecco, che se non ci fosse stato il sindaco Stefanelli, l'assessore Sparagni, forse oggi saremmo ancora qui a parlare di autorizzazioni e altre cose. Ma la cosa importante è che Stefanelli ci ha creduto alla nascita di questa struttura perché lui è il sindaco di un territorio che si è visto aiutare l'ospedale, si è visto aiutare il pronto soccorso, ha perso nel tempo valore dal punto di vista sanitario. Questa struttura invece gli ha ridato all'improvviso un servizio importante, tra l'altro unico per qualità in tutta l'area, perché questo servizio che serve egregiamente le città di Formia e di Minturno sta sul territorio di Minturno, in genere è Formia che serve Minturno per tutte le varie esigenze. Quindi si è creata anche questa felice combinazione di interessi convergenti tra noi che proviamo a organizzare un servizio e un'amministrazione comunale che ci sta alla vicina per poterlo fare nel miglior tempo possibile. Voi siete praticamente distanti da due diversi distinti svincoli della superstrata Formia-Cassino, che è questo che comunque è anche un guido importante per raggiungervi. Come fare per interagire, soprattutto lei adesso si rivolgerà alle famiglie, con voi e avere anche le giuste informazioni e notizie? Guardi, la cosa più semplice è andare sul sito del centro dove ci sono tutte le informazioni per poterci mettere in contatto. Però ne posso dire anche un'altra cosa. Io ho avuto in questo campo ormai da 50 anni e diciamo in un passaparola molto ampio le persone mi raggiungono con grande facilità. Quindi non è difficile accedere a questo centro, non è difficile contattarmi, non è difficile soprattutto capire subito la procedura da mettere in atto. Anche perché mi perdoni la battuta che il suo numero di cellulare non ce l'hanno in pochi. Il numero di cellulare è stato sempre lo stesso. Io non l'ho mai cambiato. Io cerco di rispondere a tutti nei limiti che mi sono consentiti anche dal mio lavoro. Ma un'ultima cosa volevo dirle. Noi abbiamo anche la fortuna di avere un buon rapporto con l'azienda sanitaria, con i servizi pubblici. Perché? Beh, insomma, io sono stato il dirigente del servizio pubblico per più di 30 anni. Quindi, diciamo, la gran parte degli operatori sono operatori che hanno lavorato con me dall'altra parte della barricata. Quindi possiamo intenderci molto rapidamente sulle cose che c'è da fare su queste famiglie. Io sono molto orgoglioso che su questo territorio e in realtà a questo territorio una struttura di questo genere. Adesso sto pensando al futuro che non è solo quello di allargare la possibilità di avere più casi e seguire quindi più bambini. Io sto cercando di mettere insieme le idee perché il mio progetto condiviso dalla proprietà del centro è quello di organizzare un centro di urno sempre per minori e sempre per minori con disturbi complessi da realizzare sempre qui delle vicinanze. Stamano ho un incontro con il sindaco Stefanelli che è venuto a trovarci e che, diciamo, condivide quest'altro possibile obiettivo e insieme ci muoveremo per avere in tempi brevi anche quest'altro servizio sul territorio di Vintù. Sena, mi rispondo ma lei in pensione non ci voleva andare? E questa è una cosa più difficile in cui lei mi sta ponendo. Io fin quando ho la forza vado avanti. Certo, poi dovrò fare i conti con l'età però io spero che anche, casomai, poi con ritmi più ridotti io possa continuare a fare quello che ritengo insomma di fare da tantissimi anni al meglio delle mie possibilità. Poi, sai, su di noi medici i giudizi mi danno le famiglie i genitori, gli utenti però 70 gente viene qui. Sai, è vero che voi medici voi addetti ai lavori posticipate la pensione nel momento in cui trovate quella linfa da un sorriso di un bambino che sta meglio? È indescrivibile la soddisfazione di quando non solo vedi il sorriso del bambino ma quando il genitore vi dice da quando l'ho portato qui da voi questo bambino ha fatto questi miglioramenti sa fare più cose capisce di più si comporta diversamente la scuola mi ha fatto i complimenti queste sono le nostre soddisfazioni sono per noi sono veramente posso usare un termine sconveniente sono la droga che ci fa andare avanti e impegnarci a me.